Abbiamo il nostro Vescovo, Monsignor Domenico Mugavero, che qui oggi, chiaramente parlando di fede e giustizia, chi può avere la fede e giustizia in sé? Soltanto Dio, e lui lo rappresenta oggi. Siamo tutti rappresentanti del Buon Dio, perché con il Battesimo siamo tutti figli di Dio. È una bella iniziativa questa di rendere memoria e far presente una figura del nostro tempo. Trent'anni dopo la sua uccisione continua ad avere tutta la sua valenza esemplare. Proprio ieri il Papa ai giuristi cattolici lo indicava come modello per la loro vita. Un uomo che ha saputo coniugare fede e diritto senza trasbordare né sul piano della fede né sul piano della professionalità. Ha saputo sempre mantenere un equilibrio, per cui la sua fede, non devozionistica e non da bigotto, ha animato il suo ministero di giudice e di magistrato e la sua attività di operatore della giustizia ha confermato le sue scelte di fede. Quindi un uomo che ha tanto da dire proprio per la modernità della sua scelta, della sua testimonianza e del suo esempio. Il comune di Mazzara del Vallo ha il piacere di condividere con la città l'inaugurazione della fontana per piazza Mocarta di Pietro Consagra in occasione del suo recente restauro. L'11 dicembre alle ore 16, presso la ex chiesa di San Carlo Borromeo, un convegno racconterà il restauro curato dalle ditte sponsor Chira Ema e Marino. Alle ore 17.30 in piazza Mocarta, l'installazione audiovisiva di Antonio D'Addio e la performance teatrale di Massimo Vinti accompagneranno l'inaugurazione dell'opera alla presenza delle massime autorità cittadine. Vi aspettiamo!